ciao a tutti ragazzi benvenuti sul mio canale oggi vado a fare un video tag questo tag è stato fatto dalla mia amica ivana ruggiero quartuccio vi ricordo in assoluto di andare a scrivervi al suo canale la trovate comunque qui sotto nell'elenco di tutte le mie amiche e amici e amico del canale che io seguo li metto ovviamente perché mi fa soprattutto piacere di seguirli questo video tag si chiama ti ricordi quindi sono 8 domande più un tag da fare comunque io premetto già subito dall'inizio che il tag non lo lascio aperto come ha fatto ivana chi lo vorrebbe fare lo faccia perché veramente divertente e molto bello iniziamo con la prima domanda ti ricordi il gioco da strada che facevi da ragazzina o ragazzino allora il gioco che io facevo di più in assoluto da ragazzina era il nascondino giocavamo tanto a nascondino talmente tanto che un giorno la mia amica non c'entra niente però vabbè mentre eravamo nascosti trovo un accendino a terra lo riscaldò tantissimo tenendolo acceso acceso talmente che io ancora ragazzi il segno qui perché me lo appoggio per sbaglio sulla mano adesso si vede qua un po poco eccolo qua c'è tipo una cicatrice e me lo ricorderò per tutta la vita e quindi per tutta la vita quindi bene il mio gioco da ragazzina in più in assoluto era il gioco del nascondino poi seconda domanda ti ricordi il tuo cartone preferito allora di solito io mia cugina quella più o meno un anno più grande di me alle 4 eravamo sempre davanti alla televisione quando finivamo i compiti da fare e noi non ci spostavano per un'ora intera o perlomeno mezz'ora perché poi alle 5 noi uscivamo se non era inverno e andavamo in piazza in estate perché non uscivamo con il caldo ma uscivamo con il fresco quindi dopo ci facevamo una doccia ci preparavamo e andavamo quindi i miei cartoni preferiti in assoluto erano quella fascia di orario dalle 16 alle 17 quindi che cosa facevano? facevano Rossana, facevano Olly e Benji, facevano Sailor Moon questi erano i nostri cartoni in assoluto di tutti i giorni che guardavamo poi terza domanda ti ricordi la tua prima gita che hai fatto? allora io mi ricordo la mia prima gita in assoluto non so se riguarda per i genitori o cosa però una gita vera e propria che io ho fatto è la gita quella con i compagni di terza media siamo andati a Monaco bensì tre giorni siamo partiti io ovviamente ero a Bergamo quindi facevo le scuole a Bergamo la terza media siamo partiti per Monaco ci siamo fermati tre giorni abbiamo visto un paio di paesaggi però adesso mente locale mi ricordo solo dove fanno la famosa Formula 1 che siamo passati e mi ricordo quei soldati che stanno sempre fermi comunque questo della gita è a Monaco con la classe terza media terza media sì sì perché eravamo grandicelli quindi terza media quarta domanda ti ricordi il tuo amico o amica del cuore salutalo anche allora la mia amica del cuore è stata in assoluto una ragazza che adesso sarà donna si chiama Veronica Veronica andavamo insieme alla terza superiore no sono andata in prima e seconda media in Sicilia quindi mi sono molto attaccata a questa ragazza sì è lei Veronica la saluto ovviamente se mi riconosce non lo so però comunque sì era delle ginestre perché noi abbiamo un paesino vicini che si chiamavano così il suo paesino si chiamava delle ginestre andavo sempre a casa sua stavamo insieme era un periodo che uscivamo sempre insieme poi purtroppo io la terza media l'ho fatta a Bergamo perché mi sono trasferita lì sono stati dolori amari 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 molto amari perché avevo fatto una bella compagnia e purtroppo l'ho dovuta lasciare e così è stato con poi gli amici quinta domanda ti ricordi il gruppo o il cantante preferito no scusate ti ricordi il guaio più grande che hai fatto che hai combinato il guaio ne ho combinato tante ma tanti guai però uno in particolare che mio papà odiava è che io fumassi quindi quel sentire l'odore di fumo da sua figlia è un bel guaio che ho fatto poi ho smesso ma ho riniziato che avevo 18 anni stavo facendo comunque la scuola professionale di parrucchiera e ho iniziato lì a fumare pesantemente cioè pesantemente fumavo le sigarette ecco ne fumavo un po' di più ecco invece un po' più piccola ho provato questa cosa qui e ho combinato un po' di guai un guaio proprio sesta domanda ti ricordi il gruppo o il cantante preferito della tua adolescenza? canticchia una sua canzone allora i nostri gruppi erano le Spice Girls e The Street Boys allora The Best Street Boys mi ricordo non mi ricordo non me le ricordo granché queste canzoni però comunque so che i gruppi erano questi beh le Spice Girls beh c'erano tante quelle là di adesso non mi viene ecco non mi stanno venendo in mente le canzoni però questi due gruppi sono le più che sentivamo da ragazzine settima domanda ti ricordi il tuo gioco di società preferito? il mio gioco di società preferito è il Monopoli ci giocavo ci rigiocavo ci giocavo ci rigiocavo volevo giocare sempre con tutti era proprio questo il gioco del Monopoli era proprio il gioco del Monopoli e giocavo con quello sia c'era la 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 scatola mini c'era quella media ora adesso ne hanno fatti di tutti i colori avevo anche preso quella di Fortnite qui era costato 24 euro ma il piccolino non ci ha saputo giocare e quindi l'hanno già rotta quindi è già sparita ottava domanda ti ricordi una pagina del tuo diario? allora una pagina del mio diario mi ricordo che alle scuole medie e anche superiori ci passavamo questo diario ognuno di noi faceva una scritta per ogni compagno o compagni di quelli che volevano aderire a questa cosa allora premetto che il mio diario di scuola è sempre stato smemoranda smemoranda? smemorante smemoranda sì sempre è stato quello iniziando dalle medie però iniziando dalle medie ho iniziato con la smemoranda tuttora se lo troverei di nuovo lo riprenderei infatti chi è in Italia ditemi se trovate questo diario della smemoranda io vi pago questi soldi me lo rimandate perché adoro tantissimo lo smemoranda ogni anno le cambiavano di colori io mi ricordo un anno lo avevo rosa un anno era blu un anno era nero quindi sì uno di una pagina mi ricordo una mia collega diciamo di parrucchiera perché comunque alla fine era periodo che io facevo il professionale di parrucchiera mi scrisse sul diario ti voglio bene fatto tutto in murales disegnato benissimo che all'ok ci mise un paio di giorni per farlo questo ovviamente facevamo che ci passavamo il diario di giorno in giorno magari se aveva bisogno più di quello io mi scrivevo i compiti in un foglio e gli lasciavo il diario in possesso e poi me lo ritornavo comunque comunque sì faccio un appello chi ha chi trova visto che a settembre riniziano le scuole chi trova lo smemoranda me lo scrive qui sotto ve lo pago vi mando i soldi ma rivolgo il mio diario della smemoranda niente il video è finito adesso tag a qualcuno ho detto già all'inizio che chi lo vuole fare lo faccia ovviamente è molto carino questo tag perché comunque perché comunque dicevo che fa ricordare un po' di cosine in passato se sentite le campane sono le 6 tra un po' arriva il mio video più grande e andrò a fare un altro video registrare comunque se vedete che stacco e ristacco è perché comunque ogni volta mi viene uno sbadiglio non so il perché non lo so perché mi scuso questa è la sedia mi scuso trementemente ma mi viene da fare lo sbadiglio continuamente anche adesso mi sta rivenendo non so il perché e niente quando faccio i vlog no ma adesso si comunque pazienza io vi mando un grosso bacione vi ricordo di iscrivervi al mio canale mettere like e vi ricordo di iscrivermi ragazzi iscrivetevi qui sotto chi trova prima possibile una smemoranda lì in Italia io vi mando un grosso bacione e ci vediamo al prossimo video ciao grazie Ivana ciao ciao ciao